Qualità e rispetto per l'ambiente, ma anche praticità e riconoscibilità. Il nuovo look degli operatori di poste italiane riparte da qui, da un nuovo set di divise per lavoratrici e lavoratori che ora sfoggiano un cambio d'abito che unisce funzionalità ed estetica al tradizionale giallo e blu delle poste. L'aggiornamento arriva a cinque anni dal precedente, una piccola svolta molto apprezzata da chi lavora nel circuito del ricapito ai cittadini e che ha partecipato all'ideazione delle nuove divise offrendo consigli e suggerimenti attraverso un sondaggio interno realizzato in fase di progettazione. La svolta per postine e postini dell'area di Napoli e provincia arriva in concomitanza con la dotazione per l'oro di nuovi palmari per il pagamento di bollettini e l'invio di raccomandate a domicilio. Un momento di svolta per poste italiane in città, come spiegato da Lucio Micillo, responsabile qualità del ricapito per Napoli. Poste con questo cambio di divise, in questa nuova fornitura divise si orienta a dare ai portalettere di Napoli, città e provincia che sono circa 1260 nuove divise seguendo quelli che sono i dettami aziendali, valori aziendali in ottica innanzitutto di sostenibilità ambientale perché si tratta di materiali e di fornitori certificati e poi soprattutto in ottica di sicurezza delle nostre persone perché si tratta comunque di veri e propri dispositivi di protezione individuale quindi certificati ad alta visibilità, a protezione per quanto riguarda la traspirabilità e impermeabilità, oltre che protezione per raggiungi stravioletti.